Un bottino non certo ingente, ma i danni sì per il colpo, messo a segno nella notte in via Poggilupi a Terra Nova Bracciolini nel Valdarno a Retino. Siamo a due passi dal casello autostradale, intorno alle 3.30 del mattino i malviventi hanno preso di mira il bancomat della banca Valdarno. Hanno collocato un esplosivo davanti allo sportello, poi lo hanno fatto saltare in aria. Lo scoppio ha divelto la porta d'ingresso e fatto saltare la cassaforte all'interno circa 10.000 euro. Magro quindi il bottino, i ladri si sono poi subito dileguati sul posto i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno e i vertici dell'istituto di credito. Oltre ai soldi trafugati ci sono i danni alla struttura ancora da quantificare. All'interno del bancomat c'era anche una telecamera e altre potrebbero essercene nella zona, visto che siamo in un'area commerciale molto sviluppata. Le immagini sono adesso al vaglio degli inquirenti.